Grazie a tutti il mercatino il mercatino di qua guarda che bello e passiamo senza vedere niente siamo vicini è un mantra guarda che bello guarda che bello è bello brulè di mela guarda che bello guarda che bello guarda che bello guarda che bello Ho fatto tutto io, scusa eh! Ma sono lì forse? Eh? E quelli che sono quelli? E quelli che sono quelli? Ma questo è il Duomo? Ma che devi andare? Dov'è? 2011. Andiamo di qua poi di là? Va bene, facciamo il giro e andiamo davanti, va bene? Eh? Che bello! Mangierò, mangierò! Ciao, ciao! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Che cosimone? Di qua ragazzi! Che vedi sono fatto la mano? Ora vanno andare qua! Benazia, ti piace? Quindi hai visto i cosi tibetani? Continuando se è verità. Beh, i figli graziosi, no? Sì, ti aspetto. Bimbrulè! Bimbrulè! Bimbrulè. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo, dai. Guarda, un po' sorridi. E' curioso o no? Questa pezza di torre. E' un po' sorridi. Grazie a tutti.